Olè, il buono è tornato ragazzi! Vic slimitato signori Attenzione ragazzi Andremo in un posto Senti qua, dove si verrà a fare il WR E questo che deve fare? Con questa bedonia, sta burino Sta merda ma Invece andiamo in ignoranza Con il WR In piega Dai WR Devo schierare marce Ragazzi Sove il sole Dal fundo E vai WR Eeeh Eeeh Si va a sbrappare Signora Non ci ha cagato le strisce Mamma mia No! Questi anziani di oggi Che cazzo fai? Che cazzo fai? Che fai? Belle queste strade comunque Viva l'Italia San Lorenzo Come guarda Lorenzo Come Giacomini Lorenzo Tieni Qua la curva non mi ricordo mai Se è a sinistra o a destra Che è a sinistra Dai Dai Vr Dai Oh Ma non so Ok Ah ok Mi sembrava che c'era tipo un muro Un muro di berlino Te l'abbassano marce Stiamo in folle quindi E so che è la folle del WR ragazzi Quindi Ben WR Ben Qui te la do una marcia Vai E' qua Non mi ricordo com'era la curva Ah ok Un po' magra Ok Eeeh Va 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 C'è quello che perché? Mi dobbiamo caerò di E io c'è quello che spisa Ok E' addevole tocca che la riscala la marcia No Qui come hanno usato I santi? C'è te ne li santi? Scanieva un po' Vai VR Vai cazzo Vai Dai Non va su Dai Che ghiaccio questo Ma no Cioè il ghiaccio Regà Qua ce l'avevo occupato Senato Che c'è Non è che Non faccio tanti problemi Cioè quelli con la bici Stanno andando Al passo dei colori a piedi E' un po' difficile Per quanto ria su quelli Noi siamo andati via Con la lieva perenne Siamo arrivati ragazzi Voila Tenici E che mi caschi No Guerrina Bella guittata Così Quanto è fiero il VR Qua Immerso Nei pratarelli Ehi Buon salve Dove cazzo vai Ehi Eccolo in altro Siamo andati via noi Porca puttana E arrivate tutte le marche Vabbè Nei prossimi motovlog ragazzi Non so Vedremo Per non rendere la cosa Troppo noiosa Vedremo di Parlare di qualche Incomento Di tirare su qualche topic Che se no Veramente Stiamo qua Col VR che sbrappa Io che bestemmio E tutto quanto Sai dopo Viene un po' monotona la cosa Porteremo un po' di flame Su YouTube E su tutti i posti dove ce lo permetteranno Intento di ragazzi Con lo sbrapparings Comunque Ecco Ah qui c'è la vecchiaia C'è lo spizio Silenzio 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 E ci indica Eh Ci indica Eh Eh Tocco Ok Passato lo spizio Eeeh Oh andate qua Che figata assoluta Vabbè chi è questo? Mi nonna Ciao No è il nonno Eeeh Cercherò ovviamente Per quelle poche volte Che carico video su YouTube Di portare roba Diciamo Guardabile Decente 10 minuti e un secondo Per le iniziazioni No scherzo Mi ci guadagno una sega Cioè oddio Ora non più Però Saluto Force Strokes Attack Che Ok Che Diciamo Durante questo periodo di neve Mi ha intrattenuto Guarda questo Dovai Tu cazzo guai Bam 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 Il VR Mi sbrappa Buongiorno Tu cazzo guai Volevo troppo